Grazie a tutti, signor José Poligno, con il numero 1 di Patrizio, con il numero 3 di Magnaz, con il numero 4 di Piscati, con il numero 6 di Spalli, con il numero 2 di Matic, con il numero 9 di Edera, con il numero 12 di Cerec, con il numero 2 di Pala, con il numero 2 di Pancini, con il numero 70 di Pala Espi, e con il numero 90 di Cerecciarali, a disposizione in cantina, con il numero 63 di Pela, con il numero 1 di Magnaz Vila, con il numero 7 di Pellegrini, con il numero 11 di Pelletti, con il numero 14 di Cicciomuro, con il numero 17 di Pina, con il numero 1 di Gersonfakken, con il numero 20 di Camaara, con il numero 24 di Pugla, con il numero 37 di Spina Cora, con il numero 59 di Pove, con il numero 62 di Pappo, e con il numero 68 di Pagli.